Ave Maria, nascita, venita, novinus vivitum, ave Maria. Carissimi telespettatori di Maria Vision, benvenuti in questa diretta televisiva, una nuova puntata di testimonianze in compagnia di una persona che ci farà vivere secondo me qualche minuto di spensieratezza. È una puntata, io la direi, pre-festiva, pre-natalizia, una puntata simpatica, allegra, con una trapanese tra l'altro, che questa volta vi presento perché è in diretta qui con me, in studio, ed è Germana Bruno. Benvenuta. Grazie, buonasera a voi. Germana, chi è Germana Bruno? Lo facciamo dire meglio a lei, lo preferirei. Però intanto io qualche anticipazione ve la do. È una donna, è una mamma, è un'insegnante, ma badate, è anche una scrittrice, oltre che, posso dire, una perfetta cuoca. Però vorrei che lo dicessi tu, chi è Germana Bruno? Sono tutte quelle cose che tu hai detto, certamente, ma qui oggi, nella stragrande maggioranza del tempo delle mie giornate, sono una maestra, vado molto orgogliosa di questo, è una professione che mi gratifica tantissimo e che amo tantissimo. Credo proprio che non avrei potuto fare altro che questo nella mia vita. Questo si addisce ad un animo che è sicuramente sensibile nei confronti degli altri, perché i bambini sono, in genere, coloro che hanno bisogno di un servizio, di una vicinanza, di una donazione. Difatti, questa attività che Germana svolge, che non è quella lavorativa, l'insegnamento, che è quasi una passione per lei, io parlo dell'attività di scrittrice che approfondiremo oggi. È un'attività che lei fa sostanzialmente per scelta, una passione che ha coltivato negli anni, che le ha dato la possibilità di scrivere sei testi, che hanno ricevuto pure numerosi premi. E oggi qualcuno ve lo presenteremo, perché sono deliziosissimi. Io ne ho letto qualcuno e devo dire che ho gradito questa spensierata forma di trascrivere la bellezza dell'animo, anche la bruttezza, perché in alcuni punti, in alcuni passaggi c'è anche la bruttezza dell'animo. Ma vince sempre la bellezza. Mi sembra che è questo il tuo messaggio. Il mio messaggio è certamente questo. Il mio scopo è appunto quello di far vincere senz'altro la bellezza. Tu dicevi che i bambini hanno bisogno, sì è vero, i bambini hanno realmente bisogno, i non adulti hanno molto bisogno, siamo indispensabili per loro. Ma devo dire che io come maestra ho avuto ed ho tanto bisogno di loro. E noi come persone, come uomini, come abitatori di questo mondo abbiamo bisogno dei bambini che frase detta e ridetta, ma assolutamente vera, è che sono gli adulti di domani. E appunto questo mi muove, mi muove nell'insegnamento e mi muove nella scrittura. La consapevolezza che sono gli adulti di domani, che quindi possono veramente fare tante cose per questo mondo e magari cambiare tante cose brutte che attualmente siamo costretti a vedere. Sicuramente il momento formativo è quello fondamentale. È l'esempio. Io credo molto nell'esempio che si dà. Assolutamente. I bambini imparano attraverso l'esempio. Noi non possiamo dare un messaggio che poi loro non riscontrino nei nostri comportamenti, perché assolutamente li destabilizziamo, li mandiamo fuori strada. Tutto quello che diciamo loro lo devono leggere, lo devono vedere nei nostri comportamenti, perché sennò è assolutamente, più che inutile direi dannoso. Allora, elenchiamo un po' i tuoi testi. Cosa è scritto? Di che testi parliamo? Allora, io scrivo principalmente rima. La mia passione è questa, ma lo è soprattutto perché so che la rima facilita l'apprendimento dei bambini. Una rima semplice, una rima baciata, a volte alternata, ma comunque molto semplice. Questa cattura particolarmente l'attenzione dei bambini e fa sì che il messaggio venga acquisito in maniera molto più immediata e facile, insomma, sia molto più comprensibile. Per cui, proprio con l'uso delle rime, affronto degli argomenti che in realtà sono argomenti pesanti, importanti, e che magari si potrebbe dire non sono assolutamente proponibili ai bambini, assolutamente una bugia. I bambini possiamo proporre tutto o quasi. E' importante il modo, le parole, i fatti, le azioni con cui questi argomenti vengono affrontati. Ecco, per cui se devo parlare di temi importanti, come temi di cui parleremo adesso, di cui parlano i miei libri, se devo parlare di questi temi così importanti, sicuramente devo trovare un veicolo abbastanza semplice, abbastanza accattivante, carino, piacevole da leggere. Che comunque ha a che fare molto con la realtà, poi fondamentalmente, perché io ne ho letto uno, di cui adesso vi parleremo, è rispetto alle fiabe classiche, in cui c'è sempre il cattivo e il buono fondamentalmente, quello che ho notato del testo di Germana è che è la realtà quella che viene descritta, è la realtà che impaurisce, che pone dei limiti, che pone delle distanze, delle separazioni, e quindi è la realtà poi che separa le persone o gli animali, nel caso del testo che ho letto io. La realtà fa paura, perché la realtà è sempre scadente. Tu di quella parli? Sì, assolutamente, io parlo della realtà, parlo della realtà, anche se certe volte questa realtà appunto viene detta con parole assolutamente più adeguate per i bambini, e anche se a volte i protagonisti sono gli animali, come favola esige, sempre con lo scopo appunto di che si renda l'argomento fruibile al più piccino e alla più piccina. Parliamo di uno di questi testi, uno importante che ha avuto un'importante edizione, guardate. Una parata buffa, stramba e colorata. Se la telecamera lo può zoomare, prego la regia, eccola qua. Una parata stramba, anzi buffa, stramba e colorata. Di un editore importante, Armando Curcio Editore. Armando Curcio Editore, sì. Quindi vorrei che i telespettatori anche sottolineassero, focalizzassero l'attenzione su edizioni che vi presentiamo, che hanno un loro essere rinomati. Di che parla il testo? Allora, una parata buffa, stramba e colorata, è intanto una rivisitazione del Carnevale degli Animali di Camille Sansan. Ma perché questa rivisitazione? Perché con questo libro in rima, questo sono delle filastrocche, con questo libro in rima, si vuole far passare, voglio far passare, il messaggio importantissimo dell'accoglienza delle diversità. Una parata buffa, stramba e colorata, altro non è che la nostra vita, la nostra vita insieme agli altri, perché tutti quanti noi, siamo tutti, grazie a Dio, diversi l'uno dall'altro. Ed è proprio questo che ci rende bellissimi. Ci rende bellissimi e ci rende, come dire, tutti in qualche modo uniti all'altro. Nessuno di noi può fare a meno dell'altro. Immaginiamoci, appunto, nel caso del libro, che si rifà, ripeto, al Carnevale degli Animali, un'orchestra, un'orchestra in cui suona soltanto uno strumento. Sì, è bello sentir suonare uno strumento, senz'altro, ma alla lunga è poco quello che può dire da solo. Mentre, se questo strumento si unisce a tanti altri strumenti diversi da lui, sicuramente produrrà una sinfonia, una musica meravigliosa. E questo è trasferibile... Come tipico dell'armonia? È trasferibile nel genere umano. Da soli non siamo nessuno, assolutamente. Da soli non andiamo da nessuna parte. abbiamo assolutamente bisogno dell'altro, delle sue diversità, appunto, dell'essere complementare a noi, di avere delle caratteristiche che noi non abbiamo. Nessuno da solo è infallibile o può fare qualcosa. Ed è bello che ad ogni animale associ la sua caratteristica caratteriale, la sua personalità. Al leone dici che sono i supervi, le galline, i pettegoli, ovviamente, agli emioni tentatori. Le tartarughe sono i perseveranti, l'elefante gli audaci, i canguri sono i prepotenti, l'acquario gli umidi, gli asini gli irriverenti, e così via dicendo. Perché questa associazione? Cosa hai voluto far capire ai ragazzi che leggono, ai bambini che assaporano, fondamentalmente, la descrizione che tu fai dell'animale attraverso la sua personalità? Appunto, per ogni animale una caratteristica, una caratteristica che a volte magari sembra anche negativa, sembra anche brutta, sembra anche da evitare, ma che invece ha il suo perché. È unita agli altri, può anche assumere caratteristiche positive, perché no? E perché concludi con i fossili poi? Allora, io l'ordine che seguo è quello seguito da Camille Sansan. Ho capito. E comunque sì, i fossili sono quelli che non vogliono, che vogliono rimanere inchiodati nel passato, che non vogliono migliorare, che non vogliono progredire, che non si aprono al nuovo, ecco. Bene, io lo consiglierei. Un testo che è acquistabile? È acquistabile, naturalmente, in tutte le librerie. Bene. Passiamo al secondo testo, quello che io ho letto è che mi è tanto piaciuto. Me lo sono goduta in una mezz'oretta, perché è leggibilissimo, è breve, è una favola, ma vi ripeto, una favola realtà. Raccontala tu. Allora, il testo di cui stiamo parlando è Casa Mia, Casa Tua, ed è edito da Einaudi Ragazzi. Quindi un grande orgoglio, una grande gratificazione per me essere pubblicata da Einaudi, che è una casa editrice, forse la più importante che abbiamo nel nostro territorio nazionale, o comunque fra le più importanti. Casa Mia, Casa Tua, già il titolo la dice lunga, non esiste Casa Mia, Casa Tua. Esiste un'unica casa, che è il mondo. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, lo dobbiamo mettere soprattutto in testa ai nostri bambini e alle nostre bambine e ognuno in questa casa ha il diritto di viverci. E se io, per un caso assolutamente fortunato, sono nata in un posto dove non ho problemi di guerra, dove non ho problemi di cibo, dove non ho problemi di essere torturata, maltrattata, questo non è successo a tante altre persone. E quindi la mia casa, sempre fra virgolette, perché ripeto, la mia casa è il mondo, la nostra casa è il mondo, la nostra casa comunque deve essere aperta a chi ne ha bisogno. E Casa Mia, Casa Tua, parla di questo, si ispira a un fatto realmente accaduto, che, ahimè, ancora ha dei risvolti alquanto tristi ed ingiusti, a mio avviso, ma non voglio stare qui a parlare di questa storia. perché non è né il luogo, né io sono la persona adatta per farlo. E comunque si ispira alle vicende di Riace, dove Mimmo Lucano, sindaco dal 2004 in quella città, costruì un modello, un modello di accoglienza unico e meraviglioso. Riace era un paese, una cittadina assolutamente abbandonata, con le case distrutte, pochissima gente ci abitava. e Lucano ebbe questa bella idea di accogliere in quella città i migranti che arrivavano appunto dalle zone di guerra con trascorsi veramente orrendi. e gli ospitò lì e diede loro la possibilità non solo di vivere dignitosamente, ma anche di dare una mano, una mano a ricostruire, a dare un senso a questa città. E così è stato. Riace ha preso tutto un altro aspetto. e il modello di Riace si è rivelato veramente bello e positivo. Poi sono accadute altre cose, e io in questo libro ai bambini non avrei potuto proporre certo la cosa in questi termini, sarebbe stato fuori luogo. E quindi ho trasferito tutta questa storia in una favola, in una favola dove si parla di acqua, l'acqua è un'acqua mia e acqua tua, più che altro. È una favola dove si parla di animali acquatici, di una coppia di anatre in particolare che fugge da un lago dove dei cigni tiranni vorrebbero avere in mano la situazione dove maltrattano tutti, dove c'è un malessere generale e quindi in attesa degli anatroccoli pensano di trovare per loro un posto migliore per vivere e partono via in cerca di un altro lago. Ma purtroppo non trovano questa accoglienza. La speranza di trovare un mondo migliore, una bella accoglienza si dissolve subito, si dissolve subito, ma intervengono qui due protagonisti simpaticissimi che sono Nonna Cigno che è l'abitante di questo lago che rifiuta di accogliere questi poveri anatroccoli e Martín Pescatore che è il sindaco di un lago dove invece c'è diciamo l'accoglienza è di casa e c'è il modello Riace. Questo è un po' il punto. Viviamo in una diciamo situazione sociale in cui siamo consapevoli di questa continua presenza soprattutto di extracomunitari che approdano per trovare una maggiore fortuna o comunque una vita migliore. Questo è l'obiettivo principale credo che tutti gli esseri umani hanno ma chi vive situazioni sociali politiche belliche o di sfruttamento costante perenne come è e lo sappiamo in tantissimi stati dell'Africa evidentemente cerca un approdo più sicuro dunque il trasferimento altrove a questo obiettivo la non accoglienza giustificata o non giustificata che sia soprattutto dettata da paure il libro parla paura di non trovare più cibo paura di non trovare più la propria serenità la propria sicurezza le proprie certezze paura di non trovare quanti in Italia lamentano paura di non trovare più un lavoro perché altri lo prendono al posto loro le paure creano questo tipo di allontanamento di divisione addirittura di cattiveria che porta poi all'egoismo più sfrenato e al totale abbandono di ciascuno nel proprio destino perché si pensa solo al proprio la paura è il pregiudizio è il pregiudizio ingiustificato spesso tutto questo come lo vivono i tuoi bambini i miei bambini naturalmente sono loro i primi ad accedere alle mie nuove ci credo nuove poesie nuovi racconti e naturalmente però sto molto attenta anche all'età a cui mi rivolgo io essendo maestra segue i bambini dalla prima alla quinta quindi gli argomenti poi sono differenziati a secondo le classi con loro ho affrontato una parata stramba una parata buffa stramba e colorata che è molto importante per far capire loro la ricchezza e la diversità per far comprendere loro quanto veramente sia una risorsa l'essere diversi e non sia assolutamente un limite per nessuno l'abbiamo affrontata l'abbiamo fatta veramente purtroppo non l'abbiamo fatta la volevamo preparare come spettacolo teatrale perché si presta moltissimo a qualcosa del genere ma purtroppo i miei bambini che adesso sono in terza elementare non sanno che cosa vuol dire fare una recita di Natale fare un qualsiasi spettacolino teatrale perché il covid non ha permesso il protocollo anticovid non permette tutto ciò però allo stesso tempo io dico e ne sono convinta che i bambini tutti questi problemi non se li pongono neppure non notono la differenza tra una pelle diversa un colore diverso un occhio diverso sono i genitori che li istruiscono in tal senso assolutamente sì ma anche sono accoglienti purtroppo questi messaggi li ricevono sin dalla culla sin dalla culla io ho assistito anche a delle a delle situazioni veramente incredibili un tempo fa di una mamma che strappava il bambino di fretta e furia perché stava passando una persona di colore e non doveva assolutamente nemmeno sfiorarla quindi il messaggio purtroppo al bambino arriva e si forma con questo messaggio a tal proposito voglio dire a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in diretta che è il 23 di dicembre giorno in cui vi faremo gli auguri di Natale qui in diretta da Maria Vision Trapani avrò la fortuna di avere qui alle 15 e 30 un gruppo di bambini provenienti da ogni parte del mondo per parlare di un Natale internazionale anche per chi non sa cos'è il Natale perché ci sarà il buddista e ci sarà il musulmano ma noi vogliamo parlare di amore perché il Natale è la festa dell'amore perché ha fede chiaramente l'amore ha uno come dire una fonte certa che è Gesù Cristo che nasce per quello per noi ma parlare d'amore parlare di bellezza parlare di solidarietà parlare di apertura è universale non ha definizioni non ha ideologie non ha religione dunque educare i bambini a questo e tu con i tuoi testi con i tuoi esempi lo fai credo che dovrebbe essere alla base di ogni insegnante assolutamente sì spero che lo sia lo spero ci credo perché vedo che spesso insomma tra le mie colleghe questi argomenti sono molto cioè sono molto trattati sono molto sensibili anche loro a questi argomenti io io proprio penso che sia il la prima cosa da fare la prima cosa da fare sia questa educare educare a vivere bene con gli altri questa è la prima cosa che bisogna fare prima di saper leggere scrivere e fare di conto e a proposito di questo volevo dire che se i nostri bambini e le nostre bambine imparano a leggere a scrivere e a fare di conto tre cose che se vogliamo non sono naturali sono forzate sono forzate sono importantissime naturalmente senza questo non ci sarebbe comunicazione non potrebbero leggere nemmeno le mie poesie però se imparano questo che è una cosa veramente difficile io ogni prima elementare che faccio mi sconvolgo mi sconvolge come avviene questo miracolo cioè questo miracolo dell'apprendimento della lettura della scrittura ecco se questi sei bambini imparano questo allo stesso modo impareranno i principi i valori da seguire per vivere bene la vita insieme agli altri tu dici siamo tutti sotto lo stesso cielo tutti in cerca di un posto tranquillo dove vivere in pace è un diritto di tutti gli esseri viventi non solo nostro non solo vostro nessuno è padrone di una parte del mondo di una terra di un'acqua dico sembrano cose scontate no ma perché invece dobbiamo combattere lottare affinché vengono comprese ed esercitate da tutti per molti non lo sono per me per te grazie a Dio sono scontate per molti sono scontate ma per tanti non sono scontate tanti sono convinti di essere a casa propria di non dover di essere dalla parte della ragione quando dicono che a casa propria non deve entrare nessuno perché rubano il lavoro perché perché sono cattivi perché credono in un altro Dio perché perché hanno perché ci costringeranno anche noi un giorno a portare il burka il burka lo stiamo portando a momenti adesso per altri motivi per altri motivi forse una posizione ma chi lo sa non lo diciamo non credo un luogo è tuo se lo ami se ti ama se hai bisogno di esso per vivere dignitosamente questo è un altro concetto bellissimo perché è appunto è il concetto dell'amore quello che ti fa appartenere a qualcuno a qualcosa ad un luogo è quanto lo ami è ama il luogo la persona è te quindi è questa corrisponzione totale costante perenne di amore però l'amore ha bisogno di essere libero perché se no se incominciamo pregiudizi paure difficoltà problemi e soprattutto e lucubrazioni mentali io le chiamo cioè tutte quelle forme quasi paranoiche patologiche di pensiero che ti allontanano dalla cosa più bella per cui l'essere umano è stato creato che è amare infatti che dobbiamo fare per convincerci che questo è il nostro ruolo nel mondo amare che poi significa donarsi vedi tu doni tanto di te perché in definitiva questa è una tua passione però è una tua passione che ti dona e ti dà la possibilità di donare un talento che tu hai che potresti tenere per te potresti esercitare per te io all'inizio lo tenevo soltanto per me e per i miei alunni poi piano piano un po' anche per consiglio di altre persone seguendo il consiglio di altre persone ho iniziato a farlo conoscere appunto alle case editrici è piaciuto a molti è piaciuto e questa cosa insomma ha preso piede così senza aver fatto nemmeno un programma su questo e adesso sono contenta perché arrivano a tanti bambini sono contattata dalle insegnanti dei bambini di tutta Italia sono invitata nelle scuole di tutta Italia quindi vado a trovare hai una collaborazione con Eli La Spiga adesso ho iniziato un bellissimo progetto una collaborazione con Eli La Spiga che è una delle maggiori case editrici nel campo dell'editoria scolastica e dovrò appunto produrre dei libri di narrativa o di poesia che verranno abbinati ai testi ministeriali e vogliamo dire che è poco parliamo di una scrittrice trapanese tra le altre cose tu sei ascoltata in tutta Italia oggi via stream che magari anche in altri paesi però è una scrittrice è una persona che appartiene al nostro territorio per chi mi ascolta da Trapani per cui sono felicissima di oggi aver avuto l'opportunità di presentarvi Germana Bruno e grazie per tu averla accettata grazie a voi grazie a voi però vorrei prima di concludere che tu ci dicesti un po' di premi dai cerchiamo un po' di valorizzare tutto il lavoro che hai svolto di premi i premi che hai ricevuto i premi che ho ricevuto sono stati cioè ho partecipato a dei concorsi più all'inizio che adesso perché adesso sono troppo presa dallo scrivere le cose dallo scrivere poesie racconti da lavorare appunto in questo progetto con Elie La Spiga da scrivere altre cose per altre case editrici e quindi diciamo che i concorsi non li faccio più all'inizio sì quando ancora non pubblicavo mandavo i miei lavori ho vinto in concorsi davvero insomma famosi e di di una certa importanza adesso non ricordo il nome di tutti ma ricordo Marostica città delle fiabbe il premio appunto di Marostica poi ricordo la fiabastrocca in Campania a Napoli e ce ne saranno sicuramente altri un paio anche nella provincia di Trapani perché sottovalutarli quelli sono anche importanti ed altri ed altri con la pubblicazione pure però di cui non ricordo il nome ma ripeto adesso non invio più i miei lavori per per i concorsi letterari non è una cosa Germana per come tu ci descrivi questa tua attività di scrittrice tutto è nato quasi per caso e si sta sviluppando quasi come se la direzione di questa corrente non la stai dando tu è la corrente stessa che va per conto suo questa cosa è molto bella perché evidentemente c'è una mano per me almeno una mano dal cielo vedi oggi accanto a noi c'è la Madonna di Loreto che poi è il simbolo un po' di questa rubrica di testimonianze che è definita la Madonna dell'accoglienza ed è nera ed è nera sì e domani tra altre cose ricorda a tutti è la sua festa la festa della Vergine di Loreto ecco per tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta per ricordare la Madonna di Loreto un messaggio vorrei che ci lasciassi ci lasciassi con un messaggio da mandare a tutti i telespettatori io intanto volevo dire riallacciandomi a quello che hai detto tu poco fa che questa cosa sì è andata da sé però è andata da sé per un fatto in particolare e questo è un consiglio che voglio dare a tutti ecco io mi sono fidata nella mia vita sempre di tutti di tutte le persone che ho incontrato non credo di essere stata fortunata perché proprio io dovrei avere incontrato delle persone che non mi hanno deluso sì lo so capita ma in ogni caso non ci dobbiamo abbattere ecco io mi sono affidata e mi sono fidata di queste persone ho dato la mia collaborazione spesso spessissimo senza chiedere nulla in cambio ma non perché sono una santa perché mi piace farlo non ci trovo nessun non faccio nessun sacrificio quindi ho collaborato con l'Unicef con Fireplay che è un'altra associazione che si muove appunto per i diritti dei bambini per la legalità nello sport e tutto quanto ho fatto tutto assolutamente così in maniera tranquilla in maniera gratuita e tutto questo mi sta ritornando mi sta ritornando perché attraverso queste persone grazie a queste persone ho fatto nuove conoscenze ecco l'aprirsi agli altri l'aprirsi agli altri dà ricchezza dà apre strade nuove dà sicuramente più possibilità di fare cose belle di trovare cose belle di maturare è proprio per la legge dell'amore dai uno ricevi cento e questo vale per tutto noi dobbiamo aprirci a tutti dobbiamo essere accoglienti dobbiamo dobbiamo curare i nostri bambini prima di ogni cosa perché sono loro che ci salveranno sono loro che hanno in mano il nostro domani e se diamo loro i giusti messaggi le giuste indicazioni sicuramente noi potremo avere un mondo migliore e mi sembra un messaggio che ha veramente un'anima natalizia grazie Germana io non posso che consigliarvi di acquistare come regalo di Natale ai bambini non è male ah no direi proprio la favola è dolcissima è molto tenera io me la sono goduta è stata una mezz'oretta di lettura dolce ecco se dovessi dargli una definizione direi dolce poi sono illustrati quindi sono molto piacevoli per i bambini anche la parata buffa strambo e colorata è molto strambo e colorata volevo fare vedere qualche immagine illustrata chi è l'illustratore? Fabiano? Fiorin Fiorin questo è casa mia casa tua e poi una parata buffa strambo e colorata se apri una pagina magari si vede anche allora guardate si vedono anche i disegni qualche disegno di qualche animale le galline? mi sono capitate quelle va bene le pettego le pettego ecco qua bene carissimi telespettatori io ringrazio Germana Bruno per essere stata con noi ci ha dato veramente una delizia di mezz'ora collocabile proprio nella prefestività che mi ero proposta questo pomeriggio il messaggio è chiaro è un messaggio d'amore d'amore di pace di solidarietà di accoglienza di fiducia nell'altro di apertura nell'altro che dirvi? un messaggio di Natale proprio così sia che tutti lo possiamo fare nostro grazie per essere stati con me ci vediamo martedì e giovedì prossimo grazie a tutti Grazie.